ragazzi qui del 38 sono con grievous e ignoto purtroppo rex non c'è e grievous saluta non sentito niente prova grievous ok perfetto allora allora siamo qui al portare per la prima volta dopo tanto anzi credo la prima volta effettivamente world world z ragazzi e tanta roba abbiamo finito let for dead 2 dovevamo fare un video un gioco che sostituiva quella dinamica e facciamo world world z e lui vuole fare difficoltà vuole fare le sfide io ho paura delle sfide moriremo male però staremo a vedere intanto pa metto pronto e guardate come moriamo male dai sì intanto io devo vedere la live è partita però io dove devo vedere se sul disco disco di invidia partire sì 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 tu fai partire intanto io vedo se se mi ha fatto che ti guardo io da twitch come va no mi dà ancora a che world eccolo qua non sta appena dando world world z eccolo qua però devo mettere world world z o appena mi sono appena accorto di aver fatto una cagata perché nel senso ho scelto la perché il persco il presagio che usiamo hanno la skin invernale la skin estiva no e io non stato con la skin estiva casi in mezzo al ghiaccio vedi come sono vestito oh shit beh non dovrebbe cambiare però in realtà allora come si chiama world world z perché non mi dà world world z perché mi dà tutto ww e a me serve world world z ormai ho deciso ormai tu farai solo ww madonna perché questa è la mia volontà no no perché io scritto ho messo ww z il titolo la breve l'abbreviazione raga ecco perché ha ragione ha ragione non posso negare che bello la cam cam chat ma no ma era posta con cordia eh ma non ricordavo un po più calda lì ma del giglio adesso si vuol dire che c'è la skin estiva tutti quei giacconi guarda allora dimmi se si vede e il show 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 oh ma ci sta un'ia per fortuna esiste lì a qui ah perché livello normale ti dico io perché si può essere comunque controlla un attimo se adesso funziona io ho un attimo se devi riuscire a rientrare nella live vediamo se c'è scritto world world z si mi ha messo da più da più da più sette sono stato cretino io mette da più da più sette dopo sì e giù davvero z ma scriviamo zombie dici diciamo world 2 ho sbagliato ho sbagliato gli ammettere oddio guarda gribus come va piuttosto se parlate voglio sbagliato oddio che è sto tizio madonna ma che è ha un cap il cappellino è rimasto qua raga venite qua ha il cappellino colorato ma è tutto resto è bianco è inquietante è un grande è l'uomo della farina ok comunque nella live per dire sono tutti i vivi e ci sono da ammazzare sono stato dormendo gli sparati in testa o col silenziatore ovviamente alcuni sono congelati leggermente ma quello il titanic credo che la cosa è la nave che poi quando faremo la campagna del giappone capiremo perché c'è una nave messa lì ah io pensavo sono gli stessi personaggi che useremo nella campagna del giappone ok piccola parentesi odio c'era con le mappone a papone no io stavo pensando invece un'altra cosa stavo pensando penso che era costa con corda cordia la cosa concordia sì sì che è arrivata fino al camciata esatto dove se come a favola per l'inchino in grande corpo a corpo che non mi ricordo più è con la est attendo che la c'è un esplosivo no quello che il mio di ma già che tu l'avevi cambiato è vero di europa sono un uomo e rato sega per la pistola stordente ma io non lo voglio io non lo voglio voglio cose belle se vuoi ti posso drogare e una super ascia tipo 20 kg al secondo aspettate ragazza arrivo arrivo me è un attimo che c'è sotto carica ecco no che è successo dove è andato da fare casino io non ho fatto niente io sono qua che ti dice e scusa grivus uh c'è una cosa pari cala era divertente oh stai calmo stai calmo grazie oddio è parato ma se lanciassi una granata mi raccomando no fai rumore ecco dietro ragazzi ho fatto solo un po di danni non è che hai fatto col col bol io ho fatto solo un po di danni non è che hai fatto col 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 bol lo vedo lo vedo grico non sprecate colpi addosso ho spero che arrivi al collo alla schiena è volato ma andiamo abbia fatto qualche chido ah ma c'è ancora uno qui col cappellino con tanto amore l'abbiamo accettata u aspetta no no c'è qualcosa lì dentro no aspetta aspetta non andare lì esploriamo qua prima e qua dici di salire qua sopra eh si ma prima esploriamo qua ah 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 t'hai già Grievous ok Grievous scendi dobbiamo esplorare appare che si passa anche di qua quindi però magari troviamo l'ordigno con l'esplosivo oh figo sembra di vederlo la doppietta guardate posso me now I'm not so big sentito è un bersaccio brutto eccolo no vabbè là guarda l'hai colpito proprio la grande comunque non ho capito la tua skin perché hai detto che la tua skin ah perché la tua skin è ancora e guardala proprio adatta al clima invernale vabbè effettivamente eh ti muovi oh 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 oddio che si sono elettrificati si perché c'è una trappola credo attiva ok cercate le trappole piazzate sapete come funziona ripeto la Grievous uh ho trovato ho trovato una doppietta cercate le casse gialle allora mette le trappole e piazzate ah ok buono ho capito venite qua ragazzi qua c'è tanta roba venite arrivo ho trovato una qua c'è un ordigno uh cassa l'hai in alto l'ordigno so dove da cosa da aprire dove lo mettiamo dove lo mettiamo uh qui 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 vieni vieni come hai il qua apri se qualcuno può aprire oh cazzo al retto ne ho messo uno però non mi piace là però vediamo se c'è un'altra zona arrivano ok 30 secondi eh ce la faccio a fare una qua c'è un mortaio se qualcuno eccoli zona ah meno male che ho messo la rete dove stanno ne ha bloccati tutti la rete praticamente ah ma ci sono dei tizi la chi l'aveva visto questi tizi dobbiamo difenda questi ciutti ok si russi si rossi este cittadine rossi e esse madre patria ok c'è una cassa ragazzi non avete preso la cassa quale cassa dove è questa uh non l'avevo vista proprio madonna di sfuggire se la piazzo io è una griglia la piazzo qua ok ok io vado alle m60 visto che sono il medico se sto indietro è meglio dove stanno arrivando ho sentito rumori molestie va davanti c'è il segno giallo arancione scusi aiutatemi mi prego dimmi che faccio un po' di punti ahia me ne sei andato addosso tanta cattiera ah ma io sono un cretino me lo spara patata si ho fatto una straccia di deficiente c'è un bull ragazzi ho che c'è un bull dove? sul container dove sono io grigus no ecco è caduto mai andare vieni qua che ti curo a me a grigus aia è la miseria delta si è messo male lo so curati ti copro io non posso curarmi ti col 4 vai no 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 non ce l'ho proprio non le sei partito già col medico no non sono partito col medico infatti è strano ce lo dovevo avere incorporato strano infatti vabbè dove stanno va qua vai sul container usa la metagliatrice non posso non ce l'ho altri container cioè non ho altri ah è vicino ai russi dicevo e la uso io non c'è dov'è ah quella non l'avevo vista grazie vai tu vai tu io ci impedisco che ti arrivino addosso ok ecco appunto oh ok chi è che è morto chi è che è caduto grivos prova ad andarlo a recuperare bello no shu era caduto io sono vicino a shu siamo caduti tutti bello chi è che chi è che è ancora da vivo no non vedo nessuno che sia vivo no no c'è ignoto da qualche parte che sta cercando di sopravvivere ah si lo vedo lì con la motosega madonna aspetta che aveva detto ignoto ce la faremo dai ne rimangono 4 ne rimangono 4 no ce la fai ce la fai salva l'altro salva l'altro vieni subito ci propri non lo so e che sono un cazzo di pro medic no grivos copia le spalle copia le scato le spalle hai visto con la motosega li ho fatti fuori tutti mi puoi curare sì ho appena fatto per ora tieni il questo poi mi è piaciuto muori muori intera ragazzi se trovate un medikit chiamatemi che lo prendo io perché se lo uso io curo di più e curo anche me curando voi quindi avvisatemi cosa bello allora controlliamo qui in zona prima se c'è qualcosa non mi sembra che c'è nulla uh medikit 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 lo uso su grivos direi cosa vuoi show per curiosità cosa vuoi show grivos arrivo grivos sta morendo qui qua hai fatto oh e vedo anche una cosa interessante là dietro dove qua ore 12 ah lì una cassa medikit 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 delta vieni qua delta vieni qua io sono qua però grivos è scappato dove sei sono qui io sto fermo qua ah ok ok scusi grivos è andato a suicidio però aspetta 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 grivos ecco così un brutto rumore molesto quelli verdi non fatevi avvicinare da quelli verdi che vi abbattono più che abbattono vi fanno cadere e infettano non ho munizione devo tornare in dieta a ricaricare vai vai alla cassa no non si può al centro del cortile c'è la cassa vai ah ok dietro però dietro di noi dove eravamo prima con i russi però non si apre più ti aspettiamo vai come no è chiuso si è chiuso vedi cazzo c'è un chiuso dentro e niente si fa con quello che sia vabbè pazienza non ce l'ho pensato zombie ma ma che aspetta io ho lasciato un fucile prima no no va bene va bene uso l'altra arma uso l'altra arma se vuoi qua c'è il mio fucile se vuoi vieni ci sono dei colpi ancora no non ti preoccupare no non ce l'ho ancora ce l'ho 100 però era giusto aria tizio ah quello lì è quello che mi infetta occhio eh quello che sputa si ho visto con questa doppietta non mi piace neanche un po' spartano i pochi colpi fa cagare la doppietta no hai visto che fa schifo si si qua avete già controllato in questa area si non c'è nada come c'è qua qualcosa che c'è dici c'è granate cosa c'è ah beh ma perché io eh vabbè lo tengo io le granate ma cosa mi ci baggia ah io ho fatto male cioè sono caduto e ho fatto allora non mi piace questa area i ghiacci vedo qualcosa ratti ratti corpo a corpo madonna alle spalle pietro che la faccia donna siamo in una brutta posizione no no non ci piace infatti ciao puoi anche morire male non mi interessa continuiamo zombie ok ah credo che siamo arrivati forse al punto corpo a corpo non mi interessa sprecare munizione qua è inutile e mori prossimo signora non perde la testa ok non perde il braccio e vabbè le serve una mano occhio al bull ragazzi occhio al bull perché c'è un bull ecco qualcuno che mi segue dov'è dov'è che l'ho visto correre però ah ma pur che c'era con me parateli alla schiena medikit a chi serve il medikit a griffus ok aspetta no non prendi cura io aspetta così curandovi io mi curo cioè questo è stonks ok a cura griffus hai curato a griffus si si ok perché show può morire vero ok vuoi che cura anche te delta no per il momento no perdi siamo a metà ok allora possiamo andare tutti di qua però erano scappati zombie da quest'area e forse c'era qualcosa qui si qua c'è la cassa di munizioni e un lanciafiamme zombie in arrivo l'ultima rimasta delta vieni qua vieni qua che qua c'è un medikit posso curarti vieni ah sei già entrato sei già entrato aspetta no sono qua allora aspetta uh quanta roba guarda qua cura delta 28 prendi la cura qui intanto così sei apposto alla prossima ora vai prendo l'altro allora delta c'è griffus che ti lanciafiamme e devi caricarlo devi cercare i distributori tipo di di benzina ok devi andare dove c'è il segno giallo ti copriamo noi apparente devi caricare il lanciafiamme e poi aprire la porta della nave perché è congelata ah vado io vado io eh ma devi caricarlo prima è qua qua vieni qua oh c'è anche dietro a cazzottare qualcuno mi ha appena sputato mi infettati ti copro scappa 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 io mi ma d'occhia che ha l'aggiato a granata no è lo zombie che è esploso ah ok chi è che è rimasto in vivo io provo a rianna no però ragazzi questa cosa deve finire però mi rimango sempre io attenzione che sputa appunto quello che sputa quello che sputa no io ero tanto figo con lanciafiamme che mi rendo conto che lanciafiamme non va no perché non deve infatti non va bene no però a chi è curato a chi è curato eh grivus però perché il corpo diore si diventa zombie è infatti ah no grande qualcuno salva o me è grato sì ok c'ho ok c'ho un medikit eh me lo userò su show no su show è sì mi raccomando no show è proprio qua qua vieni segui me segui me segui me si si segui cioè sei tu che stai seguendo a grivus lo scegli tu carica e mo puoi andare dall'altra parte no perché è vuoto ma dai ma è la fasullo eh ce ne sono alcuni vuoti quindi bisogna vedere il culo e trovare ragazzi dall'altra parte dove state andando sto cercando un posto per passare di là no e devi fare tutto il giro no tutto il giro sì l'avevo capito che palle vedi che è un percorso ogni giorno e quello che farai sarà trasformare grandi sassi in piccoli sassi vedete dove sono ah ok ecco ma le spalle alle spalle alle spalle grivus è troppo indietro ma beh che cosi indietro grivus se troppi che non mi interessa però se vorrei usarlo mettitelo sulla schiena spalle usa un'altra usa un'altra attenzia vabbè è arrivato vabbè quello ok uh medici no il coso qui prendete mi sa che sto morendo ecco arrivo pezzo oh le bende queste sono utilissime adesso ragazzi le piazzo qua grivus usatele prendete e usatele tutti vieni qui per favore vieni qua grivus prendi da la cassa prendi solo una cosa che ti sai per curarti è una cura nel tempo e quindi vi cura lo curerà piano piano guarda ho trovato la bobina lo so che l'hai trovata però tu non è che guardi ai lati ti ha attaccato alle spalle e sto dicendo un altro medkit faglielo prendere a ignoto no ce l'ho ce l'ho qualcuno che cura quello shot del cavolo dai lo curo io solo perché c'è il medkit però grivus non andare da solo non andare da solo non andare da solo e va da solo no sono qua guarda dietro di voi ok andiamo sei pericoloso controlla vai e fu così che è un fake oh proteggi torniamo là dai zombie ecco dove dobbiamo andare ragazzi dove eravamo prima la porta no grivus non lo sprecare non lo sprecare non lo sprecare no non usarlo no grivus tanto tanto 30 ore no no ti serve per mi dispiace per la nave occhio mi dispiace per la nave grivus ignoto accompagna e come faccio cioè no mi hanno infettato che è che mi è perché c'è quello che urla alle spalle alle spalle grazie grazie grivus 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 sei l'unico che ci serve per finire sta partita vieni sei proprio l'unico che ci serve quindi vai avanti ta 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 no come ci sono messi male e delta ti cura no è lancia fiamme grivus ok quella no giusto giusto devo usarlo per aprirla no mi sono spa come non lancia fiamme come lo sogli il ghiaccio mi sono spa intanto perché lo usi a caso tu sei pericoloso tienilo quello che ti avanza occhio ora perché vai hai sparito lancia fiamme guarda mi serve solo per strano qua no ce l'hai in mano ciao è bellissimo siete trasportati ok siam oddio è tutto buio è tutto buio ok ragazzi cercate in ogni angolo ma se io mi tuffo qua dentro che succede se mi rimane non lo so non lo vuoi sapere è la madonna era uno zombie con le bombe ma perché ci sono questi kamikaze del cavolo brutta gente brutta gente brutta gente brutta gente brutta gente che si è caricato è piantato contro il pullman ok bravo è colpa del casco sono sicuro che è colpa del casco ok ragazzi cercate dappertutto cose ecco vedi 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 e grius raggiunge i punti che non dovrebbe raggiungere aspettate qui ci sono le granate se volete ok ahia che è successo ecco bravo che cosa è successo non lo rianimo io vabbè eh vabbè è le bende da mie bende che sto morendo quale bende non ce n'ho più le usate tutte allora morirò andate a prendervi le granate aspetta posso solo farti questo no questa è delta oddio che è successo perché a me tiro più resistenza e ti cura piano piano pochissimo vabbè ma lo devi dare a grius non a me ok io l'hai già dato a grius ok si si occhio alle mine non passateci sopra sta che ci sono delle mine ah si ecco che grius è caduto e si è fatto male qua qua posso interagire si vai vai occhio al bull ah no quello scusa è quello tossico andiamo oddio mi sono spaventato grius grius quello che ti infetta beh invece no andiamo dai invece l'ho infettato prima io ah ah ok qua niente qua pieno di casse occhio però non si aprono c'è quello che si nasconde occhio eh aspetta forse sotto eccolo qua l'ho trovato madonna cazzottare non si nasconde più aspetta ma qua si può passare no wow che è finta è finta si ci servebbe un bel medikit eh io sto morendo eh infatti per quello no ragazzi c'è quello che urla c'è l'urlatore non riesco a prenderlo non lo vedo ah eccolo lì sparagli è un tiro pulito cazzo ok l'ho preso un tiro pulito occhio occhio no dove è il bull no 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 minchia chi è a terra vabbè show ma chi se ne frega tentiamo la granata scusami errore mio errore mio errore mio scusa no ragazzi non complicate mi la vita come ok scusa è stato un attimo un erro ma dov'è il gigante che palle ho già finito il coso li ho già finito lanciafiamme che pizza dove stai andando qui sopra eh ci sono le munizioni qua è il medikit cioè ragazzi qui sopra subito qua due mediki ci sono ragazzi tutti qua da me adunata alla prima delta no no grigus a grigus prima grigus aspetta adesso ci penso io ok che culo no aspetta è partita la passiva lui non mi ha non mi ha consumato il medikit perché si è attivata la passiva ok comunque spari oh grazie Yavo attento Yavo è diventato un po' più intelligente mi sembra più aggressiva mi sembra stavolta si però non prende i medikit vabbè però almeno spara quel fucile adesso prima non sparava con quello è vero è vero prima prende quella pistolina oddio mi sei passata davanti bomba bomba eh al diavolo no no cavolo mi è passata davanti proprio che cosa è quella cosa interagisce là in fondo che cosa è quella cosa interagisce la porta bisogna cercare altra altra benzina di nuovo per attivare l'ascensore vai cercate cercate e quali c'è di interagire vai 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 occhio è in chi ha detto che vedi tipo fbi open up si 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 ciao non mi passa davanti preferita la tua arma preferita quale ma parli di poi posso curare il show visto che c'ho il medikit dov'è stato esso ecco cura e prenditi l'altro medikit prendi si si no 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 si è attivata la passiva posso curare qualcun altro sai quella che ho la probabilità di non consumare un medikit bene buono infatti ottimo qualcuno deve prenderlo lancia fiamme ragazzi va bene la prendo io soltanto per basta che ci muoviamo se no non vuoi lanciare le fiamme c'è qualcosa la sotto che lo sento brutto rumore molesto si oh eccoli e sta fermo ma dobbiamo scendere per di qua non lo so credo di si no in realtà devi andare tu al generatore e rifornirlo ok e tu dovresti avere il puntatore sul noi dobbiamo proteggerti ecco bravo muore uno a più giù c'è un bullo occhio anche un infettore data vai ti copriamo noi e vai show è ancora io quello lì data vai scendi che ti copriamo ah interagisci ah ok sciogli il ghiaccio devi sciogliere il ghiaccio brucia nell'inferno sotto sotto più in basso no dobbiamo risalire sopra si devi ricaricarlo di nuovo minchia l'hai usato tutto non hai scongelato la porta no ma hai capito grievous l'ha fatto no e questo ancora no a quanto pare vai vai il bar anche in basso perchè ne lasciate un sacco in basso eh no ma infatti aspetta brucia nell'inferno brucia basta 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 c'è qualcun altro? amico? no c'è la benzina però questo è da portare all'ascensore ok ora dobbiamo portarla all'ascensore corriamo delta se tu che sai dov'è noi dobbiamo solo difenderti c'è in teoria te dovrebbe dirti dove andare è qua sopra Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Bruciali Ragazzi aiuto Che cosa c'era là Perché mi dice di ricaricarsi e poi abbiamo la cosa per muoverci Delta ti curo Il medkit è c'è un altro di medkit Davvero? Curo delta e vado a prenderlo Attenzione che vedo una brutta cosa C'è una brutta mia Bomba Erano zombie di quegli esplosivi Vabbè mi è venuto addosso solo per me Aspetta che ti cura Adesso sai come usare il medkit Ma delta ma lancia fiamme e lo molli lì così Non te lo porti in giro Io ce l'ho in mano ancora addosso E perché c'è un altro qui? Perché è per il nostro socio Allora attenzione che c'è una mina qua Quel cazzo mina Torretta bisogna conquistarla Aspetta 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 faccio io Faccio le bende da prendere Bravo Io prendo le bende Minzica Oh avevo visto ho detto che cosa Ok Ragazzi prendete le bende qua Sì Oh granate Amici miei Figli miei amici Grivo sei preso le bende tu C'è da battere quello là che urla Andiamo E' sotto però Eccolo E' rottercat Aiutiamo i ragazzi Siamo separati E saliamo sopra Amica ma c'è il bull là sopra Sì appena mo Devo salire merda Aspetta mo ci penso io Sì ma tanto devo tirarli su Aia No cavolo Mi ha fregato Mi ha fregato Cura lì Cura lì Arrivo Grievous Ok Posso curarti Grievous Aspetta Vieni Le bende Le bende erano sotto Sono giù No C'è detto Io non sei preso le bende Eh ma perché Mi serve altre robe da pigliare No no Devo scendere per forza giù di nuovo Madonna Per il generatore Si devi cercare l'altra Tanica di benzina E' sto Devo scendere giù E' occhio che sei feritissimo Ecco là guarda Ah ma io no Ma io ce l'ho ancora il fuoco Aspetta In basso in basso Ok Fabri Occhio dietro Occhio che dietro c'è No ho sbagliato Tasto No Focco a me Io mi metto lontano da voi Grievous Sei pericoloso Mi è stupiato Mi è stupiato male proprio Sì ma tanto Le uscioni di nono grado Sono Sono bubole Sono delle bubole Ho trovato un ordine Rispondimento Hai preso la benzina? Ehm Sì Devo andare a Allora vai No non credo Non l'ho preso Voglio dire distruggere A noi ci dice di proteggerti Quindi forse ce l'hai Ah ok Vai No non ho più munici Devi tornare a caricarlo vai Vabbè sta là per fortuna Aspetta ti faccio correre Un po' di più Aspetta ti faccio correre un po' di più Oh Ah eccola Grievous hai sempre problemi con il tizio col fuoco eh Non so perché vengono da me Probabilmente perché sono un po' polare Scusate Scusate Ok Prendo io la benzina Ho fatto una strage No L'urlatore L'urlatore Ammazzatelo Ammichè è sopra È sopra È sopra Chi se ne frega Adesso siamo quasi Abbiamo fatto Qua io di sanguato Aiuto Dove devo andare Qua Dove sono io Scappa all'indietto 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 Via 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 Grievous Grievous Via 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 Grievous dove sta andando Mi aiuto Sta in area brutta gente Ragazzi se venite Siete in difficoltà Venite in questa stanza Che c'è la torretta automatica Che ci Io sono due c'è Io Dove c'è O qua Venite qua dove sono io Grievous non lo vedo Ok Grievous lo drogo Ti ha colpito una donna Io sono con un show Io sono con un show Ah ciao Ma non mi è ignoto Non vedermi così veloce Ok 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 che è terra Ah minchia Vabbè ma Il show Sopravvive Andiamo a andare Di dentro Dai Reattiviamo Sti cavolo Di generatori Ma dovete andare A un'altra Mamma mia Che ti interradisci Ah beh sono vicini Dai No è il via vai Dico Mamma mia E il prossimo Dove è il prossimo Bisogna far veloce Cazzo Trenta secondi Bisogna attivarli insieme Ecco Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Vai 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 Oh io apro questa porta Che magari c'è un medikit dentro Venite qua un attimo C'è una cosa C'è una cosa lì sopra Da andare E qui c'è da aprire La porta No cavolo Raggiungi dice Uh la tesoreria Assembla Trovato il tesoro Assembla Ragazzi Deve venire tutti qua Sì sì Arrivo Assembla Allora forse è la fine Sì è la fine Show Quello che sono Aspetta Finiamo in bellezza Bella raga Una musichetta Ma Ciao 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 Madonna Fai paura Ciao 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 Via Ciao Ah ma non è ancora finita Ti stavo per sparare a vista Anch'io Non si scelta Stiamo arrivando Stiamo arrivando Qui Hai un cappello bruttissimo Qua bisogna proteggere questi Ragazzi cercate le casse gialle Iniziate Ok Iniziamo a cercare le casse gialle Torretta 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 Oh ecco Dove posso mettere la torrette Uh Dove posso Quante torrette posso mettere Guarda guarda sto per far spondare la porta Aspetta Ragazzi Trovate tutte le cassette possibili Immaginabili Eh sto cercando Uno l'ho trovato però Ah no ma devono esserci ne altre Eccola qua Raga io ho sfondato una porta qui Non è Hai fatto bene Cosa hai trovato? Una roba Prendi tutto Uh un altro Bello Bello qua sopra Un'altra torretta Bellissimo Dove metto la torretta qui? Grievous vieni un attimo qua Così ti posso curare E prendo l'altro medikit Un altro bel torretto dal lato Così Perfetto Ok Uh lancia fiamme c'è qui Un po' di armi qua belle Ok qua è pericoloso Dove dobbiamo stare Ok sta per cominciare Proteggi i russi Proteggi i russi Da dove arrivano? Di là Di là Di là Ma non c'è un'arma pesante? Perché non c'è un'arma pesante? Sì vabbè Qualcos'altro Sono tantissimi Abbiamo messo tutte le trappole Dalla parte opposta Bravissimo Dove è una torretta? E che capo Madonna Difendete Dimitri Salvate Dimitri Ma chi è Dimitri? Eh se no fallisce la missione Nooo Show Poi anche mori ammazzato Però Ti metti davanti a me Ragazzi io cercherò di No È morto Dimitri Dove è morto Dimitri? L'abbiamo perso Ve l'ho detto Siamo morti tutti Ho visto tutte le lucette Di chi è morto Se bisogna proteggerli i russi Ma non li ho visti dove erano Dove erano nascosti Non li ho visti E c'era il segno Che diceva di Eh non li avevo notati Intanto Ok Peccato Pensa che eravamo alla fine Wow 14 Ho fatto Madonna Sono una pistola Ero 14 Che eravamo alla fine Eh è un po' tosta quella Madonna è finita così Ma che ci fai riprovare Mamma mia Sì che per me si può riprovare Ma che cosa si Cosa si vince? Cosa si ottiene? Guarda Ma c'è un numero di decisioni in mischia Ma dai non avevo du Eh comunque ti da 5 cosi azzurri Anche se muori Quanto? 5 cosi azzurri A me l'ha dato E' tristissimo C'è perché abbiamo sbagliato Quanto si vince? C'è perché abbiamo perso A me non mi ha dato un peggio Ma forse perché ho finito Una missione io Non so Ma dai che tristezza Io non ho fatto Io niente La lacrimuccia Ah beh cambia personaggi Ho migliorato anche delle armi Io invece vedo che la classe Posso potenziarla Uh che cos'è? Ci ho messo una perk Uh bella questa Prendi Ok Vado 300 punti dell'S lunga Eh volete riprovare questa o cambiamo? Spesso un attimo O provo a vedere la sfida settimanale Che apri Cosa offre? Che cos'è quella settimanale? Eh Ah Oh no Mosca Oh no Allora Ho già livello 3 difficoltà alta eh No no Difficoltà è 2 stelle No io ve lo 3 Il problema è che Il problema è che Le regole sono 3 C'è Basta marea Quindi le ondate di zombie sono dimezzate Però C'è Asma Che dice Perdi lentamente salute Quando scatti Vabbè E poi c'è Nemesi Vieni inseguito per l'intera missione Da un toro che non può essere ucciso La proviamo Io vedo questo toro Oddio Diventa tipo Outlast Oh si c'è il mio personaggio Io vai Ma io chi sono? Un rampino russo Sei il prete tu E qual è il prete? Il prese russo Il pope Adesso mi leggerò la bibbia In latino però Si chiami pope Vai fai partire Cioè mettete pronto Devo mettere pronto Questa è da 150 cose azzurri Se la finiamo eh Che 150 cosa azzurri Perganti Si Ai vostri posti Ah no infatti mi dice La ricompensa sarebbe di 100 A me Non 150 Ah 100 E' una triste No 100 mi sembra Ogni costume Di personaggio Quanto vale 150 105 Che tristezza Vabbè ci proviamo Ci proviamo Ah inizia partita Inizia tutto I giocatori sono Prova Sì Mo sentirei il tuo personaggio A dire alla ragazza Se c'è Lì Che bravo Lì dovrebbe mettere Ah no e forse non c'è In questa sfida Non lo so No scusa Quel bull che ci insegue Che non può essere ucciso Come lo gestisci Cioè dobbiamo continuare A muoverci Non abbiamo tempi morti Tipo Vabbè giocano sul fatto Appunto che tu devi cercare Di spostarti senza correre So per di là Salute Sì Capitolo 3 Morshka Ma io sono curioso Di vedere il toro Io sono troppo curioso Di vedere questo caso Eh ma il toro è il bull Praticamente Che ci insegue Ah io pensavo Un toro vero Sai che figato Vedere un toro vero Eh sì Indemoniato Che inizia a correre Come un pazzo Ma non lo puoi Puoi uccidere Giusto No C'è scritto che non può morire No che palla C'è altra gente qua Oh Ok Lei la conosco Oddio quanto sei bella tu Eh Ah no Beh è un po' Insanguinata di faccia Guarda Delta Che bello Che è il presento di Delta Sì però Delta è pronto All'inizio della rivoluzione Andiamo Lei è bella Lei è bella Antipatica Bella So bello So potuto Ah non accelerate ragazzi Non scattate Minchia che rivolseggiamo Allora Se correte Perdete vita Ok E guarda quanta vita hai perso Te l'ha detto È la regola della sfida giornaliente Te l'ha detto Ma dai ma che cazza Ma come te l'aveva letti Te l'aveva letti Te l'aveva letti Io muovo inizio a controllare sempre alle spalle Per vedere se ci sta il Eccolo là È arrivato È arrivato È arrivato Sì dietro di voi Via Eccolo E muoviamoci Già è morto qualcuno Ma non correte Ma si può ammazzare quindi questo coso No puoi solo stordire Non lo ammazzare Allora Grievous 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 Non lo puoi ammazzare questo È dorato Voi approfittate Mentre lo stordisco È divertente Bullizziamo il bull No sei già rialzato È naturale Grievous però Ah no Appiatra ragazza Va bene così Mi dispiace ragazzi La ragazza la sta prendendo Va bene così Abbiamo Abbiamo la La sacrificabile Che roba Che roba Stadica Oh la sta ancora ammenando Ah no Ok lasciamo stare La sta ancora ammenare Sì la sta ancora ammenando Quella cosa del tipo La dei picchi Ah no sta venendo con noi Con il kaise Vabbè abbiamo un'altra Iacone Un'unica 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 Però comunque credo Che lo scopo è anche Di far sopravvivere A questa qua Quindi Dove raggiungere Questa qua sì Lei deve sopravvivere Morirà male In pratica Uh munizioni Cose Chi è che sta Alle spalle Dietro Che Ah ok No mi chiamo Quello che ti segue Delta arma Fucile automatico Lo so era per stordirlo Ok Cos'è il fucile automatico Cos'è il fucile automatico Lo volevo dire Dove è È quello che ha preso Grivus Ok Venite qua raga 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 Dite di raggiungere Non è che dobbiamo fare questo Ma è tornato È ovvio che è tornato Ben tornerà sempre Quello ci seguirà per tutto il match E non è che lo prende con Ah beh lasciate Stai la piglia Quella Venite qua Venite qua Venite qua Grivus 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 Dove? Sopra qui le scale Sì ma ci sono gli zombie Adesso non più Ma quale è tornata viva? Sì a quanto pare Ma sono due No ok solo uno No però uno può essere ucciso No fagli tenere la scossa Fagli tenere la scossa Eh ma tanto non Lo so però Almeno deve cadere Cadere e stordirsi Almeno deve capire Almeno deve capire Lancia fiamme Lancia fiamme Delta Qua dove sono io c'ho lancia fiamme Eh lo fa prendere a Grivus No Grivus c'è l'arma speciale C'è l'arma secondo me E poi lo devo curare Grivus Eh curami curami Eh ma non correre Se correte perdete vita ok Ma io non l'ho fatto niente Ok vai prendi prendi Dove è lancia fiamme E qua davanti a me qua Uuuuh pur zoom Devo difendere Svetlana 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 Posso fare le partute squalizzo Svetlana Mi chiamo sto gioco A me venimi Sto gioco Ha un sacco di pregiudizi Oh ma guarda cosa c'è qua Non lo so Io sto facendo carne arrosca Perché sono morto Se mentre sparavo Non ho capito Che è successo Ah pure il proiettivo Mettili Pure quando ammazzi Pure quando spari Perdi vita No Sì Non scherzare Guarda Guarda Ma non è che dovevano esserci meno zombie No vabbè T'hai visto che ti sono vicino Ma che cazzo è? Ma dai mi puoi i proiettili Vabbè allora corpo a corpo Dobbiamo andare No no ti toglie la vita Questo cavolo No ma sto bull che ti segue Però no è troppo debilitante No no Cioè non è possibile No no ma Non è possibile Non stava scritto Che perdevi vita sparando Non stava scritto Perché non stava scritto Ma perché non è vero Secondo me solo quando Scatti Ma che scatto Stavo sparando Prova tu stesso Anzi Rifacciamo un attimo E spara Ok Stavo per curiosità Vediamo se è vero Guarda Mo te la faccio partire Dai parti Mo ti faccio vedere Inizia a sparare a caso Guarda come perdi la vita Ok vai Grievous parti Pecchi questo non è corretto Allora Scusami Mentre spari Non può essere che No no ma non credo Che perdi vita mentre spari E contro No qui dice Solo quando scatti Dice qua E io che scattavo Però dice Le andate di zombie Sono dimezzate Tutti quelli che sono arrivati addosso Vai Grievous Pronto No perché Mo me la soppella sul personale Adesso voglio vedere Sta cosa Perché mi fa strano Qui non possiamo Sparare Fammi capire No no Non puoi correre sicuro Ma sparare non credo Però mi pareva effettivamente Che perdessimo vita Sparando Ma dai Sì Perché non è possibile Questo è morto Perché sparava Perché l'ho notato Quando ho iniziato A usare il lanciafiamme Stavo quando ho iniziato Ho visto la vita Scalare una miseria Infatti ho smesso Di usarla subito Stranissimo No ma se così Bisogna segnalarlo A meno che non eri finito In mezzo dal gas Perché ci sono dei tubi Che fanno uscire gas Anche No no Non era quello Perché ero Stato a 5 a 6 di vita Ho detto Non è possibile Ho iniziato a sparare A scatto Ho visto che calava Di poco Guarda Sparo io Per voi Sono giusto per Ok vai Salta Si salta Sparo con un'arma silenziata Magari Vai Sparo Non stai perdendo vita No allora che cacchiera No all'improvviso L'ho perso drasticamente L'ho perso Ok forse Magari erano così tanti che Forse può essere che Mentre sparavo Mi colpivano E perdevo vita Che sembrava che Ok Stavo che mi sono impressionato Si perché in difficoltà normale Perdi molta più vita No ma lo so però Già il gioco Ti fa pestemmiare Però Se perdi pure vita È stato È stato qualcosa di buono Infatti Guarda io vado già dritto così Guarda cioè manco Si si andiamo ragazzi Non correte Sono scattate Ah c'era ancora uno vivo Vabbè andiamo 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 seguiamo il percorso Uh apro io Vado io Gribus È arrivato Vai 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 Piglia il fondo Vai vieni 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 Scendi 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 Gribus Non perde tempo Si però cara mia Quello che è Mamma Vabbè è stata presa di mira Quella compagna Va bene così Non si può andare Quella è bellissima Che viene menata Nostra compagna Che è qualcosa di bellissimo Come Siamo cattivi Merda Madonna quanta vita Toglie sto coso Perché ho perso Un po' di vita Anch'io Ma forse è corpo a corpo No non può essere Allora vedi che c'è qualche problema Ma vuoi crollare No ma non crolla Quell'affare No eccolo l'ha crollato Eh almeno deve stare Fai un po' Dico crollato Non dico che deve essere eliminato Minchia Che è successo Che sta succedendo Chi è che è caduto Ah non vi ho visto Che è successo Oddio è ritornato in vita No Ok si è ritornato Oksaka qua è ritornato in vita Aiuto Dove sei? No Chi ti aveva visto? Perché mi ha salvato Oksana Madonna Io tengo impegnato col mitra Il codo Il ciccione E tra un po' arriva l'orda Occhio Si No I proiettili Ma mi prendi per il culo Si A quanto pare il gioco ti vuole bene Ah raga il fuoco amico Prima Ah Ecco Raga il fuoco amico Ma questa difficoltà qua Fa malissimo Ecco perché perdiamo vita Drasticamente Perché non capio più nulla Ragazzi io non vorrei dire nulla Ma io non vedo più Ah ok come non detto Oddio No Non su di lei Non su di lei Cioè vuoi dire non su di me Ragazzi metto Le bende vicino a A Svetlana Ragazzi aiuto Guardate chi c'è qui dietro purtroppo Eh l'ho visto Qualcuno che lo distrae perché io non posso stare presto a questo Lo sapevo Ne hai giusto mille mille dietro Sono le bende qua ragazzi Aiuto Madonna No comunque No improponibile comunque mi dispiace Vorrei sapere in tutto ciò Grievous dov'è È morto No Grievous ha tutta la vita Ah è infettato Come è infettato E va bene poi arriva io mamma Ti prendete la comoda Svetlana mi raccomando Ah no Svetlana sta volendo No in realtà non siamo morti No ma Non è proponibile No questo è non è Allora il gioco non è equilibrato Non può essere che col normale Abbiamo stata difficoltà Ma no ma è solo quel bull Che ti molesta il problema No Perché la missione di per sé è facile No ma non mi interessa lo stesso Perché è improponibile Cioè ok Sfida settimanale Ma così non funziona Cioè Allora mette la faccia E fai felice un po' qualcuno Perché veramente non è proponibile Per quello che ti dira 100 monete azzurre Sì per 100 monete azzurre No ma aspetta che cambio Facciamo una campagna normale Una missione normale Per favore Dai Vediamo la possibilità A Grievous di insultare i francesi Ah 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 Ok va benissimo I francesi Allora Grievous Sappi che avevo già detto Egnodo di proporre Una missione Con i francesi Perché così possiamo sfottare Ma tu devi sapere che Venezia Se l'ha particolarmente A morte con i francesi Difatti effettivamente Noi tra i turisti Prediligiamo molto I teutonici Ma proprio Al punto che Venezia diventa I vostri vicini Sì esatto Ma a parte quello Ma al punto che Venezia diventa tedesca In questo periodo dell'anno Madonna Io la ragazza Oh se beh ragazza Becco io Quando gioco Chi è questo Chi è colui Allora Ignoto si è tolta La ragazza Con i capelli corti Che Seva più massimo È troppo francese Quella Non ce la posso fare Voglio dire Se ha qualche altra skin Ma Le fa più po' Le fa più le pei No Madonna Non si può vedere No Vabbè Prenderò lui Vabbè Però gli devo mettere Il personaggino Allora Lei mi piace Solo perché è un soldato Però Però I don't know Guarda Va Vado Aspetta Metto Che difficoltà Metto Normale Normale Ok Almeno è accettabile Dai Dai Ho scelto Il ragazzo Quel cappellino Che si sente Troppo metallare La rivoluzionaria Sì Così a cazzo Sì No aspetta Devo mettere Metto il bot Sì Metti il bot Ok Metti il bot Che almeno Se la prendono Con qualcuno Sì esatto Se la prendono Con qualcuno Esatto Anzi almeno Il bot Ci ha aiutato Ogni tanto Cioè Devo essere sincero Marsiglia Ah quindi Dobbiamo Dobbiamo fare Il barbiere di Marsiglia No aspetta Siviglia Era una Marsiglia Mi ricordo ancora Come Lilli Il vagabondo Come hanno mischiato Italia E Francia Per connessi Il vagabondo È in Francia Io mi sono In America No in America Lilli Il vagabondo Sì sì Però Quando hanno messo I personaggi Di quello Là robusto Con quello Magro Con i spaghetti Ma qui sono Italoamericani Ci sono i classici Tizi siciliani Che sono Emigrati No no Sì però Come hanno Confuso Con lo stile Un po' francese Perché hanno fatto Quei baffetti No E facevano tutto Meoui Che poi Magari Veniva da Nizza Che ne sai Non ci credo proprio Io credo che Semplicemente Avevamo sbagliato Proprio Io voglio Spero una cosa Visto che tu sei Del Piemonte Ma le aree Di confine Non nettamente Qua finisce l'Italia E poi in tutta la Francia O ci sono Delle persone No No E c'è una zona Proprio mista Tipo qui Stiamo giocando Adesso che In costa azzurra Tipo È misto Ma perché C'è provato Anche tanto turismo Quindi Sì perché Inizia l'italiana Per esempio E mica la Savoia Tutto Madonna ma Sera che sta Tenendo il caffè Perché Così Un rumore Tipo Con la tazza Il caffè Madonna Madonna si sente A cento francese Quando parla Un voyage Sì sì Per l'increttivo Degli incredibili Vediamo le macchine Che hanno i francesi Perché questo gioco Ha gli stereotipi Ma ma chi Ma chi Tu non hai visto Quegli italiani Tu non hai visto Quell'Italia Oddio che macchia Tutte cinquecento Tutte cinquecento Tutte cinquecento In Italia Tutte cinquecento Ok qui non ci sono regole speciali Siamo semplicemente Sulla costa azzurra Che capiria Questa donna qua Troppo francese Dicevo che è una donna Mettiamo Ma è un fungo Ma è un fungo Sì lo so Perché non la voglio Infatti La userà Rex Quando giocheremo con Poveri Diciamo no Ma è l'unica militare Sì è l'unica militare Eh sì giustamente Ma vediamo come risponde Ah c'è una C'è una luce Aspetta cerca tutto Prima cerca Aspetta che cosa sei Sono una francese Che non so che cosa fa Nella vita Mamma mia Mamma mia Penso di essere Un'artizionaria No queste sono Le classiche francesi Che vogliono Sentirsi Sentono artiste Patriotti Oh guarda quanta Quella gente c'è qua Io sono a Parigi Capitale europea Dell'arte Ho manzato Poi qui c'è Marsiglia Però c'è il mare Quindi siamo in costa azzurra Francesi ma non era Non è New York La capitale Adesso mondiale Dell'arte Prima Poi 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 Quella lì è le panda Le panda Ti prego No Le panda Si perché fa le panda Con quel paese Però le panda Si Ma sento una cosa brutta Oddio che Hanno messo Oddio che è sta merda Oddio Cosa Che è sta cosa qua Electronautica Le petite Le petite machine Cos'hai trovato di bello Barista No vieni qua Vieni qua Cosa cosa Fammi vedere Guardi il nome di questo locale Di questo bar Barista Barista E c'è anche il menù C'è anche il menù Guarda Tipo tartine de nutella Guarda Gâteau Ovin rouge Mousse au chocolat Non riesco a leggerlo Eh Devi alzare un po' la grafica Eh ma Fanncavolo Poi c'è Caffè Oh aspetta Caffè espresso Decafé Grand Grand Caffè Caffè Rallofé Double Caffè Ah doppio caffè Giustamente Va 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 Doppio caffè Tipo un caffè Con un altro caffè E poi c'è un carro armato Si il carro armato Poi qua c'è un carro armato Il carro armato è bello Mi piace Un po' troppo futuristico Strano Però vabbè Allora Io vedo un televisore No Un bidone a spazzatura Un tizio che stava qui Bellone Motocicletta Dai saliamo a bordo La motocicletta Questo barbone Micchia ma è morto malissimo Guarda Si 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 è una rakina Una rakina Effettivamente Bravo delta Che hai trovato Si togiti L'esplosivo Allora apri Inauguriamolo subito Ah ecco come l'animazione Non l'ho mai messa Via Knock Eh Cadere Inauguriamolo subito Inauguriamolo subito Inauguriamolo subito Io se ti dico Gnac Oh la voglio La palestra Guarda che fa cagare Su sto gioco La palestra Te lo dico Ma la volevo io La palestra Ma a me non mi interessa Io te lo dico Fa cagare Su sto gioco No come È bellissimo Eh Sì ma Se la tiri addosso a noi Non ha senso Ok Ok mi raccomando eh Ma come la usi Ma è bellissima Sì È tutto Tutto un gran divertimento Finché qualcuno Non ci rimette un occhio Attenzione alle spalle Eh sì qualcosa Comunque Com'è farmacia Farmacy Da farmacy 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 Ma tra l'altro Leggi questo cartello Delta In fact Rapport Siamo adattarlo al covid Praticamente Perciò infetti Aspetta Aspetta Vediamo se c'è Tutti i sintomi Vediamo se c'è qualcosa Ma tanto C'abbiamo tutti i medikit Sì sì Ah sì è vero Uh ma qua ci sono le band Le band Eh sì ma abbiamo tutti i medikit E cura qualcuno E chi cura E siamo tutti a full vita No c'è Marine Marine che è inguaiata A Marine può morire Ma no poverine Tra un po' ci sarà Grievous da curare Ma Grievous va corpo a corpo È una bellezza Ma lui può farlo C'ha l'abilità per tutto Può fare tutto il corpo a corpo Robbe 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 No Qua c'è Bellissimo Hai ucciso Hai ucciso un predatore E con ciò E con ciò Sta musica non mi piace C'è un bull Ops scusa mi ho pigliato Ho perso le persone sbagliate Ho perso le persone sbagliate Aiuto Aspetta che c'è Ok Rossio Finito Vedi che quelle bende O che di medikit Anche da dietro Arrivano Ok Ebbone È bellissimo Quest'arma Prima serve solo quando c'è l'orda Si vorrebbe O quando ci sono tanti zombie Perché da solo Fa esplodere Quindi ti fa scoprire subito Però è divertente Ok 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 Se qualcuno vuole andare a prendere quelle bende Grygis sta scappando Facciamo così State qui nella piazza Vado a prendere le bende Le pi Ecco aiuto Aiuto Bellissimo Vado a prendere le bende Ma questo Non c'era nessuno Ma non c'era nessuno qua dentro Vabbè Le metto qua Prendete e usatele tutti Ok Però ho scoperto una cosa Sai che cosa Ho scoperto che questo Mi ha sostituito il mio fucile Mo l'ho notato Allora no Prendetele Perché pensa che era un'arma Marine non le prende perché è stupida Le figure Non avevo capito che aveva sostituito La mia seconda arma Allora no col cavolo La bellezza è simpatica però Aspetta dove siete Io sto prendendo una cassa Si aspetta che C'è una doppietta e una pistola Come secondaria Se vuoi No io guardo Che cosa tengo direttamente Come arma simpatica Ignoto Chieto di te Usiamo a cercare i cadaveri Cerca i cadaveri Quello che qualcuno ha problemi di zombie Ah no ma in chiesa dobbiamo Qui chiare In chiesa ci sta Ricordo di appoggiare altra guancia Quando arriva qualcuno Forgere l'altra guancia Forgere no che appoggiare Vabbè Per loro è appoggiare così Te la sbrano Appoggiarsi Appoggiarla sul mio fucile Comunque ho avuto un caldo di connessione bruttissimo Comunque sappiatelo Vai cerca cerca Qua non mi dà nulla Ma perché io devo stare S'ha trovato Grivus S'ha trovata C'è son due bull ragazzi Occhio E vabbè però Ok è andato Assemble Ragazzi qui assemble Tu sparisci Avengers assemble Esatto Madonna Che casino Marine Oddio Si muove senza Che è successo Si ho visto Ma perché Che atterra in realtà Solo che gioco La Signorina Signorina Guarda Guardala Guardala Vieni Vieni Che cosa ho appena Vabbè I francesi Sono francesi Guarda Guardala come si muove Senza morsi Si è baggata proprio No ragazzi Ti prego E' bellissima E' la mia preferita E' la mia preferita È diventata Ormai è diventata La mia preferita Ok Chi la donna ha baggata Oh sta sparando Io vedrò Come combattere Si sta sparando Sta sparando Però non si vede E c'è un'altra E' un altro caro armato 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 Ragazzi dove sei Ragazzi mi avete abbandonato Madonna Ma è più di te Che non ti giri mai Qua ci sono le granate Delta Seguro Noa lei è rimasta Paggatissima Bellissima Si guarda Occhio che arriva Da qualche parte Arrivano Non posso salire qua sopra Oh si No 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 Mannaggia a te Donna E' vissi Donna Si si è spaggata Però morta Aiuto C'è un lanciarazzi Se volete Eh aspetta Ok ho avuto un po' di difficoltà Curo Chi ravo io L'avete stancato Oh ti senti Vieni Krivos Vieni verso di me Che ti curo Uh c'è una porta qui Dime che si può usare No si può usare Non ne hai più Ok Ah ma io posso curarmi Aspettate ragazzi Si si ognuno può Si si però Visto che io curando gli altri Mi curo io Non fa niente Ma ti sei ribaggato Ma c'è la cassa ragazzi Avete dimenticato Una cassa chiusa Con un rpg Chi lo vuole l'rpg Ci sono munizioni Ci sono munizioni No ci sono un rpg E un mitrale leggero Come Ti sei E non hai notato Che c'è un cannone Si ma solo un colpo Quella no E che significa Può servire a qualcosa Mai dire mai E occhio a I cadavere Alle griglie Oh guarda qua cosa c'è Guarda qua cosa c'è Ordigno da sfondamento Quasi quasi torno su Aprire quella porta là Vai 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 Oh no me lo tengo No me lo tengo E più avanti ci serve Può essere Sì perché adesso qua Dobbiamo difendere Ci sono le trappole da prendere Dai ragazzi Casse gialle Forza Cercate casse gialle Io mi devo caricare un po' di munizioni Ragazzi Che era Era secco Abbiamo un minuto Dai Anche io Ma me le carico all'ultimo Non si può riuscire a cuore Andi per i fatti Ho stato una bella torretta qui Due casse gialle io Grande qua ci sta No qua non credo di aver trovato No qua li ho presi tutti L'ho presi Frati E metto ancora una torretta fissa C'è ancora una cassa Uh cassa 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 Ma apri subito Dimmi che cosa è Mitra avanzato Non so se prenderla Però farandello Sì va bene Ok io ho messo Ci sono delle torrette qui Ditemi dove sono Guardate io ho due torrette qua Io piazzo una mitraattrice fissa Qua sopra il container Ok Guarda che ballo Granata No Aspetta Ma che cazzo Grivus avevi solo un colpo No non è vero Si lancia razzi si No no il mortaio Non sprecarlo Ma qua c'è lancia Ah ci lancia fiamme qua Guarda Smettila che ci serve per battere i nemici No è finito E ovvio che è finito grazie No è finito Hai usato il mortaio no Vabbè una l'M60 qua Una l'M60 in alto Forza Perché io mi ludo che queste munizioni siano infinite No non sono infinite Sì sto gioco secondo te ti aiuta Sì No Hai capito perché serviva Vabbè ma Grimus vuole appro Qualcuno usa l'altra mitraattrice Oh ma è uscito il sole Che bello il giorno Gritammi il sole Che bello questo Avere stato Bello di lanciacapatate Hai rubato il mio ranciacapatate Prefetto Vedo brutta gente Grimus va a suicidio Buon per lui Non bull Dove è? Ah Davanti a me Sposta caricando Ok è morto Dovebbe aver finito quest'area Ma dobbiamo andare là No adesso di là Arrivando là adesso Esatto Io prendo la torretta qui Vedi c'ho due torrette ragazzi Ragazzi Io prendo quella dietro Ok prendi questa qui Io è nato che prendo munizione E arrivo A parte che c'è anche il tappeto elettrico Sì sì No arrivo Andai dietro Aia come da dietro Aia Ho fregato Come da dietro Eh C'è dal fiume volevo dire Non li vedo Eh le ho uccisi Le ho uccisi No Dobbiamo difendere Adesso è anche di là Porco Giuda Uh ma qua c'è una torretta E ditemi Oh Contrate le spalle ragazzi Qua ci penso io Adesso arrivano da là Dove eravamo prima Sì corri 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 Dai qualcuno va da La torretta più avanti Sì vado io Vado io Tu proteggimi Va tu vai tu vai Delta Vai Ah io mi sono sentito Sparato Veloce Pensa dall'altro lato Qualcuno pensa dall'altro lato No c'è un bull dietro Prius Proteggilo Proteggilo Ok Andata Aiuto Guarda che limosco Guarda che limosco Corpo a corpo contro il bull Guarda Gribus è pazzo Ecco cosa succede Cosa succede Cosa succede Poi dobbiamo fare Realtà però Poi andrà a corpo a corpo E va bene così Io vedo di Sì ma no contro un bull Vabbè ma lui si diverte Lo so divertire Uh Ma che cosa mi hai fatto trovare qui Delta guarda Dove c'era un'altra Una cassa gialla Sì No Già ho presa quella No Ce n'era una qua Wow Chi l'aveva Viva Presa io Dai andiamo Forza Merck E chi l'aveva Uno pensa che siano finiti Invece no Vedi che questo qua Non l'avevo visto proprio Per esempio Vedi io avevo aperto uno qua Non l'avevo visto quello Figura Ah ma qua che cosa c'era qui dentro Sai che non ho visto niente qui dentro Eh ho guardato io C'è una cassa con delle munizioni Però aspetta perché mi servono i colpi Beh item Madonna Che bella partita ragazzi Mi sta piacendo Sì questa sì Non sta andando male Diciamo Ecco l'ho detto Perché che cosa è successo No ho detto che sta andando bene Guarda Grievous Guarda Grievous Il nostro Highlander Ragazzi c'è un problema alle spalle Oh ma le spalle Sta alle spalle Al posto No no vabbè Tanto mo Si chiuderà il cancello Ci sono i ratti Vabbè ma sono in Francia È normale che ci sono i ratti 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 Un ratto grosso grosso e brutto E faccio l'imboscata al bull Vabbè ma vede rotto Ok basta Basta Io vedo un bull Adesso basta E basta abbiamo capito Che li odi C'è uno screamer ragazzi occhio C'è uno screamer Ah Che è che è morto C'è uno di quelli che urlano E c'è Ma ecco l'ho visto dov'è No è lì sopra Chi lo piglia L'ho preso l'ho preso Oh grande Preso Madonna Sono sprecato tutti i colpi Delta ti curo viene Grazie Quanto sei gentile Occhio Grievous Mi ha salvato il PNG Ma non è che io lo dica ma è così Guarda Ti ha salvato Marine Uh ignoto 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 Sì? Eh ma non ho Non ho il Cavolo Forse qua c'è da qualche parte Forse qua c'è da qualche parte A cercare Uh munizio Che cosa c'è qui? Una cassa C'è un fucile Uh Prendilo Allora volevo dire una cosa Oddio che macchina vecchissima Fatta male Però molto vecchia come modello È un furgoncino in realtà Sì però il muso è molto vecchio Anni del 30 Sì Guarda vedere qua se c'è qualcosa Ecco no Granate se volete Io Comunque posso dire Posso dire una cosa ignoto Sì 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 Però non te la do lo stesso Oh beh ma tanto io sono un francese gay No questa era cattiva Ma non l'ho detto bene Potrei aver detto qualunque cosa Oh guarda In realtà io amo il personaggio di Grievous Vieni qua Vabbè bel negretto con la camicia a fiori Eh sì chiaramente Con la camicia hawaiana guarda Volevo cusciare avec moi Senso Ah 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 Oddio questo era un negozio di anime Che cacchio Di caccole Anime Un negozio di baguette Ma boh Ah è vero Non lo so Si chiama de facto Il titolo del Intanto Grievous è andato di qua e scappato dritto dritto Ma fa bene Tu dove sei? Il museo Il museo francese Il museo dell'arte della baguette Il museo d'arte Che si sentono tanti artistici L'arte della baguette Che bello come si sentono artistici francesi Mica hanno rubato operi italiani da noi Ma no Ma no Mona Lisa l'ha fatta un francese Esatto Mona Lisa Va bene La Mona Lisa non lo tocco come argomento Perché Il caro Leonardo da Vinci Gliel'ha regato al principe Di Francia Oh Ma picchiata Tanto che anche se picchia Quella qua è il problema Ok Questa Grievous che ti curo E poi prendo il medikit Sicuramente Siamo nella squadra E non vediamo Munizioni Praticamente adesso arriverà un francese E noi dobbiamo proteggerlo per tutto il tempo Che ballo Il problema è che sto francese idiota Va in mezzo agli zombie Però non è che sto francese francese quindi Ragazzi cercate il casse giale Perché qua servono Mi dicono che la carica alla baionetta E' ancora ben studiata in francese Eccola la vista Tutto quello che avete Che cosa state vedendo qua dentro Lanciapatate Perché quale ci vanno quelle automatiche Non ci vanno queste però Io non lo vedo il francese Io non lo vedo Eh arriverà arriverà un tizio Un tizio che sta scappando agli zombie No arrivo a aprire un furgone militare Grievous lo vedo correre come un pazzo Dovete cercare le casse gialle Eccola qua No Scherzavo Però qui c'è il filo spinato Ragazzi fucile pesante Ragazzi Che vuole prendere Prendete qualunque cosa che possano Uh eccolo la qua Ragazzi Oh la cassa era qua una A torretto Io ne ho trovata una qua Ho messo una mitragliatrice Servirà a poco Ce la finiremo subito Guarda io ne metto una Qua c'è un mortaio Ok Ecco è questo il tizio che dobbiamo difendere Arriverà da qua vedi Dove? Da dove sono io c'era Ecco adesso ho fatto tutta la difesa sta missione Voglio fare una cosa bella ma a quanto poi non ha funzionato Grievous all'altanati da lì Grievous è pazzo E infatti Dovevo provare Non è vero Vuoi suicidarti Diverso Pazzo È universo di me che ti curo È morta Come è morta? Ha urlato malissimo No è uno zombie Sparare alla vista Ok Che bello Uriro è diventato uno zombie Uccidio Eh niente Dai dai Beh dava già segni Questi sono tizi da proteggere Dico dava già segni di instabilità prima quando Eh sì È stata La ciliegina sulla torta Guardalo guardalo come è in azione Ma perché l'altro va Ah beh io vado dall'altro ragazzi Perché c'è un altro lì Sì sono in due Dobbiamo difenderli Allora Grievous va corpo a corpo Vai aiutare Gnotto Brutta persona Brutta persona Brutta persona Brutta persona Grievous è brutta persona Quella cosa è brutta persona Sento che era difficile No perché lui va addosso al tank Al pool Eh Vabbè lui va corpo a corpo Grievous è ancora un medico Da usare Ma Marina è rinata Eh vabbè È brutta di prima No dai poverino Non è vero È intelligente Visto che ero da solo È venuta qua È perché siamo Perché usa L'intensità artificiale Dice guarda Questi sono separati Madonna Grievous Come si diverte a menare Che ha coltellate Bravo Grievous Fai punto Ragazzi dovete prendere Le casse degli armamenti Dove è aperto il tizio E portarle al camion È caduto qualcuno Qualcuno che Ok No il tizio dovrebbe aver aperto Una cassa da voi Ah eh si Però Grievous deve venire A aiutarmi Sto fermando l'ondata Eh si ok Perché quello aprirà un'altra Capito Ma ne sta aprire un'altra Chi è che è morto lì Chi è che è morto No chi è in difficoltà La marina La marina No No il tizio Qualcuno che È ignoto È ignoto Vai ad altizio Vai ad altizio Penso io qua Penso io qui Vabbè Eh ho la cassa io Eh lo so È che Non è ad altizio Chi è che è caduto Chi è che è caduto Forse è uno di quelli Che dobbiamo proteggere Eh però dobbiamo Appunto proteggere Manca solo più quello là Dai Vabbè In realtà ce l'ho io Che cacchio dice Ho già fatto tutto Aiuto ragazzi Ragazzi Sono in base Oh cazzo L'ho visto L'ho visto Aiuto Aiuto Questo si chiama La violenza Le donne Signor Ah Maron Ho visto una cosa Bella Grievous Credo che Grievous Qualcuno aiuto Salvi Grievous Grievous Smette di stare lì In mezzo Vieni qua sopra Che valore Ora Dobbiamo Dobbiamo difendere La Dobbiamo difendere Sì Nessuno ha messo una metagliatrice o qualcosa L'avevo messo più avanti Non sapevo di difendere Ah ce l'ho qua Ce l'ho io Grievous Dove è grievous Non lo so Ah è laggiù Dove laggiù L'ho sto sparando io Però va bene perché li divide Cioè non arrivano tutti addosso a noi Bastarmi silenziate Assembla Grievous qui Grievous qui Grazie E guarda qui Ciao E niente Facciamo Grievous È troppo lontano Per l'altro Grievous è morto Niente Siamo tutti fermi Sì Ma quando ne sono arrivati alla fine Eh tanti tanti Grievous Ecco che dovevi stare qui vicino a noi Eh ho provato a raggiungere Mi eravate già dati via Eh ma io ti ho detto Corri subito Tu sembra ucciderla in fondo Sì Sono corci Ma poi sono arrivati mille zombie Eh ma è normale Il gioco è fatto così E tu lo sai purtroppo Lo sai È gioco per tagliarli Non è che lo so abbastanza bene Vabbè hai fatto Anzi ti dico che è meno complesso Rispetto a Let4D Che cerca di massacrarti Erano zombie francesi Sì erano francesi Fai abbiamo perso In Francia C'è anche tristenza Delusione Delusione Vabbè pazienza succede Però cavolo peccato Abbiamo fatto Io ho fatto un livello Quindi ci sta Ah va bene anche La classe Oh pure una sfida ho finito Dai tu finisci le sfide No è un peccato Perché stava andando benissimo Stava andando È un peccato proprio che Eh Era l'ultima parte Era poi l'ultima parte Sì 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 Perché quello Dobbiamo andare poi tutti lì alla fine Sì ma sai che Come Perché il gioco vuole Che tu devi arrivare lì a difendere Si sente che ci manca Si sente che ci manca Rex Eh Eh nì Perché No in realtà questo potevamo farla Sì potevamo farla Potevamo farla Peccato Vabbè possiamo fare la missione successiva Per curiosità Eh Intanto qua mi dice Che ho sbloccato Uh ho sbloccato Che cosa ho bloccato Diver Diver Potenziatevi Intanto io metto Altro livello No voglio vedere che cosa Concentrazione Uccide cinque zombie Concentruire Sono un colpito alla testa Ok Che cosa mi concentra Salute temporanea Ah un aumento Bello Aumento alla salute Se ammazzo zombie Cinque zombie Però Sempre in testa Ma io faccio una strage Quindi Va benissimo Sono contento Siete Devo mettere pronto Però aspetta Se entri Magari metto qualche modificatore Sono le Le ultime Le ultime E mezza Posso fare Un'ultima Sì facciamo l'ultima Sì 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 Sono cotto Vuoi che metto qualche regola speciale No 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 Non è il No tipo quello che quando muori Ti rialzi Ste roba lì No no Sembra una cosa da cheater No vabbè Non mi piace Ok Via No perché Comunque il gioco È molto Sul gestire Tutti insieme Cioè si resta Tutti attaccati Vabbè Griwus L'ho lasciato ammazzare Zombie Con le Corpacole Perché mica mi ascoltavo Quando gli dicevo Di venire qui Quindi L'ho lasciato stare Peccato che Qua gioca molto Sul numero Non è un po' A Let's 4 Dead So che Let's 4 Dead Era stronzo E se Griwus Era lontano lì Era attaccato da tutti Cioè proprio da tutti I special zombie Senza pietà Quindi Oh ma sempre Vabbè questo è un casino È un casino Però mi piace la mappa La mappa può sto dire che Ragazzi guarda dove mi ha spottato Io non mi sono manco mosso Però vi faccio vedere dove mi sono spottato Griwus guarda dove mi sono spottato Cioè Guarda Io rischio proprio Ma se io mi buttassi Cioè boh Madonna No ma se io mi butto Che cosa succede C'è anche scritto nel cartello Vedi Che cosa dice Eh dice Evitato l'ingresso Pericolo E rischi di cadere Non credo Mi sento triste Mi sa che non puoi suicidare Non posso suicidarmi Che peccato Però qua dice che è friabile il territorio Quindi mi aspettavo che fria È franabile non fria Guardi Guardi Quelle cacchie di bandiere della francese Guardi quelli non sono morti Cioè Non sono morti Non sono morti Stanno dormendo Adesso sì È da zombie dormiglione Che non muore va in prigione Perché stanno lì dentro Chissà perché Stavano cercando qualcuno Comunque i giochi di zombie O i figli di zombie Non mi sono mai piaciuto Lo sapete Cogliosamente francesi Davvero Sì Mi metto più paura Strana Dici preferisco più Il film horror Cattivissi di mostri E creature varie Ma I zombie mettono ansia Da picco ho avuto Tanto poco di film Dei zombie Veramente È lucinante Sembra una barzare Oh cassa 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 Apri Cassa anche qua Stavo a prendere È quella Quella dice Ah Ok Oh Guarda Guarda Grimos Come si prende L'armi pesante Sì Io ero del tipo Che rimango È durata pochissimo Sì è stata quell'espressione mia Del tipo Vabbè Oh porca L'ho salvato Non è vero Tu sei stato fortunato Che Grus Dove è il cannone Il bazooka Sei stato fortunato Che non ce l'avevo io In quel momento Eh Ah io mi è già passato Con elo Il tuo bazooka Mamma mia Sì però io che mi prendo I jumpscare Così guarda Io li odio I jumpscare Ecco una cosa che odio Dei giochi horror Sono i jumpscare Anche se questa è una cazzata E vabbè però E adesso Si sale sul ponte Si sale qua Quindi si sale qua sopra Credo No Dove cacchio si sale Ah Ho sentito rumore molesto Ah da qua Da qua Chi è che è morto Chi è che si è fatto Eh Grus è stato abbattuto Da un lurker Grus Su Guarda che si cambiano E appunto Sì così di sì La fanno apposta Uh quanta brutta gente E si imbattita Io ci han sentito Eh lo so Ma tanto è andata A Grus Vanno Però posso dire Una cosa Una cosa bella Che seguono Il rumore Sì qua è vero Che cosa mi piace Santissimo Oddio alle spalle Eh sì Ma cadono dai Cadono dai tetti Uh ma qua ci sono Granate Io sono proprio L'uomo La donna Delle granate Ok Uno qua dentro Che cosa c'è qua È una casa Pistola Ricaricare le munizioni Gente morta Oddio che cacchio è Quel fumo geo verde No non mi piace No è il fumo tossico Tipo lo smoker Sì 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 No ho capito Qual è quello là Tossico Ok Queste case non mi piacciono Ma sono brutte Stecate Uh ma c'è qualcosa Ah no una lattina Ok non c'è Ma se tu tirò la parte opposta Dove dobbiamo andare Bene Dove Ah no anche di di si va No ma io stavo facendo Un giro di perlustrazione Grus va proprio in missione Direi Grus va all'assalto Ma con tanta ignoranza Guarda c'è una cassa qui Guarda che In realtà c'è anche una bella PdV Uh Eh mi spiace per Grus Ma Lo vuoi tu o lo prendo io No prendelo tu Prendelo tu Io non mi trovo moltissimo Ok Io non mi trovo moltissimo Prova vai vai a violare la proprietà privata Sono caduto Cassa Eh cura Medikit Allora io curo Grus E poi prendo il medikit Grus vieni qua No ma sono capisci No ma sono capisci Ma no 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 così prendo il medikit non lo sprechiamo Oh n***a Esatto Arrivo Ok andiamo Grievous è andato poi all'assalto, guarda Grievous va all'assalto, guarda, guarda il nostro Rambo, la conosce Alanzo proprio, ma guarda come va lì, sai che questa mappa mi ricorda moltissimo quella africana di Resident Evil 5, non so perché, ha molto, ah perché ha la doppietta, ok Aia chi è che mi ha sputato, no, disinfettati subito, no, no, ah sì, una donna, hai visto che io ho sparato l'RPG al Codolin, non è andato dove c'è il fumogeno Beh se, magari non mi vai a ricaricare, si Devo ricaricare tu, ah no, finiti i colpi, ecco, bravo, chi? Io, io, per la secondaria, vabbè tutto normale, stanno andando di secondaria Quello è arrivato a uscire ed è morto, mi ha docciato malissimo, si si, ti ha proprio ignorato, ha snobbato con una gattiveria Medio di niente Ok, com'è ragazzi, tranquillo? Sì Che cos'è questo? Campione di virus? Prendilo, allora, prendilo, a fine missione ci dà punti extra se la vinciamo, se la finiamo Uh, veramente? Sì, però non devi subire danni, se no ti infetti e diventi zombie Cioè devi subire pochi danni, praticamente Grazie, quella cosa, guarda, possiamo vincere, però non devi farti danni Ah, ok Lo sto dicendo a me? Oh beh, puoi farti picchiare, ma si tolgono tanta vita, tipo Eh, non la prende nessuno, quella, è un fucile pesante Dove, 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 dove Lì, davanti a me E chi l'aveva vista? Non fa niente BASTARDO! Non mi ricordo La ciuolata Tu non l'hai vista la scena Me la ciuolano, me la ciuolano Eh, nessuno è un esplosivo, no, eh? Eh, no Delta mi raccomando con quella fialetta di virus, eh? Dilla Grivus, ma anche non c'è la Grivus, Grivus fa corpo a corpo con una cattiveria disumana Ah, vediamo qua se c'è qualcosa Eccolo qua, fermi tutti Ecco sera Trovato l'esplosivo per quella porta La Grivus, Grivus, Grivus! Ha fatto tutto il giro, Grivus! No, aspetta Aspetta, vieni qua Dov'era quella porta, ti ricordi? Qua dietro Di qua, di qua, di qua Di qua Ah, qua Ah, là? Mi ricordavo di là Ah, là E puntualmente arriva qualcuno Allontanite la bomba Ok Cosa c'è qua dentro? Uh, medikit, munizioni, granate, viti, guarda, tutto Tanta roba No, questo mo' è mio Mo' non dovete romper cazzo Ma che fucile di merda ho trovato No, fucile a pompa Fucile a pompa di merda Aiuto, aiuto Ma guarda sto cazzo di PNG Ma spara lì Ok C'è quello che sputa, ragazzi Ecco l'ho visto Ok Ecco, brucia in pace Amen Ci serve un posto per riparare, per sistemarci, raga Eh, adesso puoi tranquillo, dai Che bello che ho questo posto affiancato, bellissimo Rischio di morte, proprio C'è il bel simbolo, Pio Hazard, sopra Mamma mia Ci sono i ratti qua sopra, eh, quindi occhio Perché vai col colpo contro i ratti Perché voglio picchiarli in amicizia No, diceva Gripus Eh no, è appunto I ratti, sono come la witch Sono come le witch, i ratti I'm in the factory Sting like shit Vai cerca, cerca Ho sentito che ha detto qualcosa, ma non ho capito cosa Ehm, che devo magari fatto l'ancio Vai vai Ma non ci sta la possibilità per ricaricare le armi, munizioni, cose Eh, boh Qua c'è una cassa Che non si può aprire Nella cassa Tron Sì Forse qua dietro, guarda qua dietro forse c'è qualcosa Che arma ignorante, però non la uscirò mai Cosa hai trovato di bello? Niente, c'è un'arma pesante lì, però non la uscirò mai Gripus è passato dritto dritto Assembla Dobbiamo fare assembla Hai messo una torretta qua, Gripus Ragazzi bisogna difendersi, bisogna difendersi Sì, però Gripus ha messo una torretta che là non credo che conviene a mettere E tu, tu, va sempre bene, nel dubbio Nel dubbio, giusto Sì, sì, no, no Ah, ecco le munizioni Allora Vedi che ha fatto bene Non ho fatto niente Sì, però non abbiamo, da un'altra parte Non abbiamo, c'è un'altra cassa gialla in zona Oh, ma non ne abbiamo bisogno Sì, c'è uno là in fondo Ci sono due qua, aiutatemi Eccomi, ci sono C'è uno là in fondo Uno là in fondo Ah, questo Ok, automatica la metterò qua Ah, c'è anche un tasto Che fa una cosa molto interessante Là, vedi dove ci sono Gripus e Marine Dove c'è quella porta C'è un, vedi che c'è un tipo Una console con dei tasti Quello affare lì attiva una sega circolare Che ammazza un sacco di zombie Allora, Gripus e ragazzi Non state là No, no, da là si attiva Quindi bisogna stare là Ah, ok Però, e qua invece cosa attiri? Qua invece? Eh, fai avanti con la missione Chiami l'ascensore Ah, maestro Comunque, se vieni qua Ti faccio vedere cosa succede Poi chiamiamo dopo l'ascensore Prima Guarda, eh Guarda sotto lì il ponte Sì È l'amato Adesso devono arrivare Dai, arrivati adesso Dai Dai Dai, Gripus attiva Bravo Attivo io Attivo io Che Gripus Mi voglio modalità macellaio Oh, io vado subito Oh, io vado subito con questa Te lo dico, eh Usate quel mortaio se riuscite Perché arrivano da lì Delta mortaio dei tuoi te Sì, sì, l'avevo visto Perché arrivano da lì Aspetto che prima arrivano, bro Non arrivano dal ponte Cosa? Arrivano da Dal ponte No, c'è l'urlatore Non c'è più Oh Vaffanculo Fuori uno Poi Voila Dov'era quella Dov'era quella Voila Guarda come li segna bene Aspetta che mo' arrivo Oh No, no, no Sono un cretino Ok Voglio ricaricare un attimo la munizione qua Ci penso io Ah, ti copro Dai Come, riattiva l'ascensore o no? Ci penso io Vado io Vado io, vado io Dov'è riattivato? Ah, là, ok Ops Che è successo? Partito un allarme Grievous Oh, cazzo Arrivo Grievous Ti aiuto io K, ti aiuto io Spara 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 Sperate di sparare alle basi delle piramidi Così cadono Oddio Oh cazzo Che è successo? Dove sei? Sì, ci ce l'ho vien Ok Mamma mia, quanta gente È quasi arrivato l'ascensore, resistete Non è il problema l'ascensore, che stanno arrivando troppa gente là La torretta già si è scaricata Questa si è scaricata sempre Spara No, c'è l'ascensore, dai Ragazzi C'è uno zone che ti stava facendo compagnia Ok Grievous Grievous, veloce Ma perché sta sempre là in fondo? Dove siamo noi? Grievous, 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 smettila, vieni qua Per favore Madonna Perché fa così, vedi voi Tutto il giro, Grievous, tutto il giro Dai, dai, dai Madonna Ecco, sono senza colpi, benissimo Anch'io sono senza colpi Oh, mamma mia Dai, dai Va sempre da solo, va Sì Grievous, dai, per favore Ma l'altra può morire Ah no, è sempre trasportata Ah, perché era morta, vedi che non ha vita qua Sì, adesso si solleva Ma sì, basta Che stronzo E poi dice che sono io stronzo Ragazzi, però qualcuno deve attivarla la leva della senora censura e non sale È stato bellissimo Uccisa Giustiziata, tu hai troppa poca vita Vabbè, pure io faccio così Però lui è poi Delta, Delta, Delta mi è Delta, Delta, Delta mi è Delta, Delta mi è Delta, Delta ti ha addestrato bene Vabbè, esatto Ha superato l'allievo Allora, Delta, vieni qua Ok Che ti, devi meriti, ti meriti No, non prendere quel medikit, Grievous Ti curo e poi prendo il medikit, che è di Ma cura anche a Marine, se casualmente non Amarina può morire Ma vabbè, no, poverino, mi fa tenerezza È tutta colpa di Grievous No, ma lei, quella lì è l'esca, è l'esca praticamente, cioè A volte ti ha salvato la vita, ringrazia Ma quando, a me no Ah, Grievous sì Ah, è vero, Grievous sì Sì, che Grievous con tanto amore ha detto Mo ti picchio lo stesso Ok, io non ho C'è di schiena Ho trovato delle munizioni, perché non c'ho più una sega Sì, c'è di un'unizione Eh, però adesso non abbiamo i silenziatori, quindi facciamo un randello assurdo No, io ho Ciao Che vengano pure Ok Eccoli, hai chiamati C'è Ma allora, che rumore forte qua Che colpi ci sono nel fuoco Oh oh A te ti amano comunque C'è qualcuno là dietro? C'è una cosa che non doveva Ah, via, via, via Ma dai, senza colpi sono Come? Come le munizioni stanno qua Stanno, aiuto Ah, ma tu ero zombie Che ne sapevo io Ok Abbiamo ammazzato Aspettate a parlare coi superstiti, eh, ragazzi Sì che dobbiamo parlare su coi superstiti Sì, però prima cerchiamo le casse gialle e le trappole Così abbiamo tutto il tempo Ecco Io non mi sono messo a parlare con loro Vabbè, vabbè Cercate le casse, dai Cacchio, io non le trovo Ma chi Ah, ecco una Allora, c'è una torretta là Dimmi dove Dovevo mettere la torretta Anche da Sì, da dove ti capita a sto punto Allora, qui sopra Guarda, ne metto uno qua Gaspar Gaspar Non qua Dovevi essere qua Di là Vabbè, non niente Brutta gente Che razza di arma ho preso io Che cacchio è quest'arma Che è sto schifo Perché mi ha dato quest'arma Ecco, molto meglio Ok, provo a sparare io con i missili Solo che è difficilissimo a sparare Che non ho riferimenti Comunque sì, è perfetto con me Come base Bisogna caricare i missili nel lanciamissili ragazzi Dove, dove le lanciamissili I missili li trovi I lanciamissili dove sono io Ah, arriva l'otel Ah, ti sto per spazzare qua Oddio, ah vabbè Lo segno Qui Vai a prendere quei altri missili per la mappa Intanto, io carico questi e sparo Vai Spero di mirare giusto Cazzo Mirare giusto No Faccio io, faccio io Ci penso io Guarda come si spara Ti faccio io come si spara Ah sì Dai, carica Come si fa a muoversi Sì Sì Uno è andato Ancora tre colpi Devono andare a segno Eh, io ne ho messo un altro Hai caricato, bravo Sì Vai Speriamo che sia giusto No, un po' sto Sì È andato bene lo stesso Uh, c'è roba lì C'è roba lì Ok, ancora un colpo dai Ah, venuti ad aiutarmi una mano Arrivo Madonna, guarda quanti ce n'è Copritemi Copritemi Ah, cavolo Aiuto Ah, ma c'è l'urlatore Ah, no, cavolo Devo, devo, devo curarmi Non si sa che salvare Gaspar da adesso Chi è Gaspar? Ma dai Ho finito i colpi Davvero di tutto Eh, andiamo a salvare Colpi Eh, no, raga Io non ho più colpi Io muoio qua Qui, qui, qui Vieni qua, dove sto io Non riesco più a muovermi Ah Arrivo Affanculo, andate affanculo Eccolo, ecco Oh mio Dio Eh, sono morto, niente Troppi zombie Sei riuscito a rianimarmi? Dove sono gli ultimi missili Da qualche parte E qua è quello che aspettavo Grazie Ah, ok, ti cura lei Meno male Ok Intanto c'è una torretta qui In tutto ciò Avete caricato i missili Qua i missili? Sì, perché ci sono altri missili Sto guardando dove sono Ma sono qua Dice di interagire Perché dice di interagire Si prende i missili Dai Perché di interagirci vuol dire che ne è un altro Ah no, interagisci la cosa per comunicare No, è per tirare i missili Per sparare con i missili Se sono carichi Puoi sparare Dovrebbero già essere Indirizzati giusti Mi pare di aver già mirato giusto Ragazzi, dove siete? Ecco Spero che siano giusti Sì, vedo che è mirato da una parte Andiamo a sparare su Ancora una carica, ragazzi E dov'è? Andiamo a sparare sul ponte Aiuto, 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 aiuto Arrivò Aiuto, ma no, mi è passato proprio Altri missili, altri missili No, non ci credo Ancora mi sta No, ecco, grazie Eccoli, li ho trovati Trovati i missili Vai Hai tu carichi Io vado a sparare Spero di sparare giusto Ma ne ho un altro qua Ci sta un altro Ne prendo anche questo C'è gli agribus Eh, lo so Poi ne ho preso un altro Non so se so mai Può essere utile in futuro Vai, carica Dov'è il ponte? Dov'è il ponte? Ah Qualcuno spara? Ah, quello è per muoversi Ah, ora ho capito Ok Madonna, mi sono spaventato Uh, grande Non ci credo Pure col virus Sì Di delta ha preso il virus Mamma mia che cura Quindi punti extra No, ce l'abbiamo fatta giusto in tempo Per mezzanotte oltretutto Eh? Vittoria! Viva la France! Vediamo quanti punti ci dà Con la capsuletta Dovrebbe dare tipo punti bonus Per campione virus Una roba del genere Vediamo un po' Ok E quello lì Ce n'è uno in ogni mappa È da cercare E cambia sempre posto Vabbè Madonna, il pistolero Lo sto livellando Quale è il livello massimo del pistolero? Cioè, tutti i livelli In sé Bonus esperienza Bonus campione bonus Ecco l'altro Bonus campione virus Vieni Judo Come Judo? Judo iscarioto Non lo so Bonus campione più Ah, si vede Proprio Ok Ok Che cos'è questo Judo? Quando sei in mobilità di zombie normali O speciali Immobilizzato Ah Ok Ti rifierai automaticamente E ripeghi Ah, ok Però Non mi interessa Va bene quello che ho preso Ok ragazzi Che ne dite di staccare L'applicazione Assolutamente Ci sta Ci sta via Ciao a tutti ragazzi Grazie per ci hai seguito E spero vi siete divertiti ovviamente Esatto Qui al prossimo video E niente Vedremo domani Forse porteremo Battlefront 2 Classico 2005 Forse Vedremo un po' Qui del 38 Passi Grazie a tutti Grazie a tutti